Andre Onana, ex portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha condiviso le sue profonde riflessioni sugli alti e bassi della vita e su come questi si applicano al calcio. Nell'intervista, Onana ha espresso l'importanza dell'equilibrio e della stabilità emotiva in mezzo alle fluttuazioni della carriera. Ha sottolineato la natura effimera del successo e quanto sia cruciale mantenere una prospettiva equilibrata indipendentemente dalle circostanze. Menzionando figure chiave che lo hanno supportato durante periodi difficili, come Tom Eatton, Altai Beindr, Richard Artis e Craig Moson, Onana ha sottolineato l'importanza del sostegno reciproco all'interno della squadra. Ha espresso la sua gratitudine per la presenza costante di queste persone nel suo cammino, sottolineando come le loro parole di incoraggiamento e di sostegno siano state fondamentali per superare gli ostacoli. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità nerazzurre qui. Inoltre, Onana ha condiviso approfondimenti sulla natura delle aspettative nel calcio professionistico, soprattutto quando si tratta di giocatori che si uniscono a club di alto livello come l'Inter. Il viaggio di Onana all'Inter non è stato privo di sfide. Ha condiviso come la transizione in un nuovo club e la pressione di essere all'altezza delle aspettative possano essere difficili per qualsiasi giocatore, indipendentemente dalla sua precedente esperienza. Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di rimanere fedeli a se stessi e di avere fiducia nelle proprie capacità, anche nei momenti più difficili. Riflettendo sulle parole di Onana, è evidente l'impatto positivo che la sua mentalità resiliente e il suo atteggiamento positivo possono avere non solo sulla sua carriera, ma anche sulla squadra nel suo insieme. La sua volontà di affrontare le sfide a testa alta e la sua capacità di trovare opportunità anche nelle situazioni più difficili sono caratteristiche che tutti i tifosi dell'Inter possono ammirare e a cui ispirarsi. Ti invitiamo pertanto, come tifoso dell'Inter, a condividere la tua opinione sulle riflessioni di Andre Onana. Cosa pensi delle parole del portiere sulla sua esperienza e sulle sfide affrontate in questo club? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e metti mi piace al video per non perderti le prossime novità Inter qui. Forza Inter!